buongiorno a tutti meno che a uno vi invito ad un grande evento spoleto arte incontra venezia il 28 settembre alla scuola di sante odoro vicino al ponte di rialto a venezia vittorio sgarbi farà una lezione d'arte su mio padre e io vi diletterò raccontandovi degli aneddoti divertenti mai svelati prima saranno presenti molti amici alberto d'attanasio direttore di casa modigliani il fotografo internazionale roberto villa amico di dario fo e pasolini ma anche mio la psicologa scrittrice maria di taparsi renato manera della fondazione casanova silvia casalin rizzolo direttore d'orchestra della fenicia di venezia ed il mitico unico salvo nunez il manager dei grandi personaggi ma aspirante a divenire manager di dio sarà una giornata speciale e sorprendente all'insegna dell'arte della cultura e dell'amicizia vi aspetto tutti il 28 settembre a venezia e per buffet ci saranno tutte specialità siciliane presentate dallo chef nino ballerino ci tengo molto a questa manifestazione pertanto ho pensato di mettermi in viaggio sin da ora vediamo un po adesso mi studio la rotta e che mi appresto quasi quasi credo che sia meglio prendere il treno a presto arrivederci a venezia